35 questo Quanto? Ah beh sono 35 Eh adesso è tutto aperto Anche la portoghese sta uscendo Un grande scolvero Un grande scolvero Un grande scolvero Sì. Sette volte, sì. La seconda è questa, no? Loppu tre, va xu. Se va avanti. Sì, vantus! Sì, vantus! Sì, vantus! Sì, vantus! Sì, vantus! La seconda è qui! La scuola, la scuola! Per mezzo, vangoste! Parmi le giochioni! Voi se me ne vedo il metodo di Paule. Pappia! Lappo, lappo vanno! Vieni! Pappia, vieni! Pappia, vieni! Pappia! Pappia! Pappia, Katio! La guardia che distacco. Arriba!